Carissimi, Damiano e Stefania, siete venuti insieme nella casa del padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio, riceva il suo sigillo e la sua consagrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo, ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento ruziale perché vi amiate all'un altro con amore fedele ed inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Damiano e Stefania, siete venuti a celebrare il matrimonio in piena libertà, senza alcuna costrizione, pienamente consapevoli del significato della vostra decisione? Siete disposti nell'annuoio del matrimonio ad amarvi e onorarvi tu l'altro per tutta la vita? Siete disposti ad accogliere responsabilmente con amore i figli che Dio vorrà donarvi e educarvi secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Se dunque vostre intenzioni giurirti il matrimonio, datevi la mano prestera ed esprimete davanti a Dio la sua Chiesa il vostro consenso. Io Damiano, io Damiano, accolgo a te Stefania come mia sposa e con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e morarti tutti i giorni della mia vita. Io Stefania colgo te Damiano e mio sposo e con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e tutti i giorni della mia vita. Il Signore Onipopente misericordioso, confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricordi della sua benvenzione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Signore bellissimo e sanato iniziale, gli sposi che li porteranno, custodisco l'integro loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Stefani, ricevi questa neve, il segno del mio amore e della mia diventità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Amen. Damiano, ricevi questa neve, il segno del mio amore e della mia diventità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Paristi, Damiano e Stefano, avete celebrato il sacramento del matrimonio. Manifestate il vostro consenso dinanzi a me e anche stimoli. Oltre alla grazia divina e gli effetti stabiliti dal sacro italiano, il vostro matrimonio produciano gli effetti civili, secondo le leggi dello Stato. Vi do perciò le porte di affitto delle cose civili riguardanti i diritti e i doveri dei collegi che voi siete tenuti a rispettare e ad osservare. Articolo 143. Con il matrimonio il marito la voglia acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio arriva l'opera con il cibolo, la competità, l'assistenza morale e materiale, alla collaborazione di interesse della famiglia e alla coabitazione. entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle nuove sostanze e alla propria capacità di lavoro, professionale o casalevole, a contribuire anche i sogni della famiglia. Articolo 144. I coniugi concordano tra poco l'indirizzo della vita familiare e vissano la residenza della famiglia, secondo le sicese dei grandi e quelle preminenti della famiglia stessa, a ciascuno dei coniugi spetti il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147. Il matrimonio impora tra me dei coniugi l'obbligo di mantenere, istruire e l'indirizzo concordato, tenendo molto delle capacità, dell'indirizzo concordato e delle aspirazioni dei libri.